Buongiorno, sono Comalli, titolare di quota insieme a mio fratello. Vi volevo solamente e molto semplicemente presentare la novità in assoluto di quest'anno. Si tratta del credo, nella versione definita da noi ultra, perché prosegue in quello che è la filosofia del modello antecedente, per cui quello dell'anno scorso. Diciamo che questa bicicletta riprende tutte le cose positive che erano insite nel prodotto dell'anno scorso, assolutamente apprezzate dagli utilizzatori e riassume anche sulla spinta delle richieste proprio di professionisti che hanno utilizzato questo prodotto e amatori sulle Gran Fondo, eccetera, ci hanno spinto a creare proprio questo nuovo modello che, riassumendolo in tempi molto stretti, presenta un regisella integrato per cui con la possibilità di avere un sistema al di là del monoscocca puro con cui viene realizzato questo telaio, il fatto di avere il regisella integrato va a implementare quello che è l'insieme della struttura.